Ciao a tutti amici! Benvenuti in questo nuovo video! Ciao Lavinia! Sei ancora in pigiama vedo! Come mai? Perché a Roma... Che cosa c'è oggi? C'è... Allerta? Allerta... Meteo! L'allerta medio, infatti piove, c'è il vento grande, il vento di burrasca... È caduto un albero! Eh sì, e quindi stiamo a casa! E che facciamo? I... I compiti! A te ti piace fare i compitini? Sì! Ah! Facci vedere che lettera stai studiando! La V! La V! Ah, c'è anche nel tuo nome! Lavinia! La V di... Vaso! Eh sì! Allora, vediamo un po', come si fa la V? Così! Bene, brava, che precisione! Grazie a tutti andiamo all'altra pagina andiamo all'altra pagina e come si legge lì? va 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 be 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 brava e adesso andiamo giù all'altro esercizio ah le sillabe inverse vero? si av che sarebbero av uva una parola con av av avventura vero? eh si avventura poi ev per ogni evenianza evenianza ev ev ivan ov ovviamente e uv uv adesso un po' di matematica? si navini ha imparato ad usare il righello un po' di matematica? v 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.